I think the girls with their nails don't know. Dai, andiamo! Andiamo, Deneas! Preso! Giù la testa! Merda, noi li ammazziamo e quelli continuano ad arrivare! Presto ci strapperanno la piazza! La figlieria è in arrivo, dicono 10 minuti al massimo! Non li abbiamo, Tenente Turner! Ci servono subito dei garrie! I garrie ci coprono il fianco! State un pazitti e fatemi pensare, cazzo! Non c'è tempo per pensare! Ehi, Daniels! Due Aiello con Pearson a chiedere supporto! Sforza! Ok, andiamo! Uoco di copertura! Daniels, ho telefono da campo! Vado! Punto una granata! Lancio una granata! Daniels, il telefono! Falco, sergente! Tagwood White 2-7 a V-Lane! Siamo sotto attacco! Serve supporto immediato sulla linea 2! Passo! Ricevuto! Ma così lasceremo il fianco esposto! Muovete il culo e venite qui il prima possibile! Agli ordini! Arriviamo! Passo! E fate presto! Quei pack ci fanno affezzi! Passo e chiudo! Ok ragazzi, ci spostiamo allo Stadttheater! Il primo plotone nei guai! Posizioni nemiche sconosciute! Passare a radio e interfono! Radio accesa! Repson! Noi andiamo a destra verso il teatro! A destra! Ricevuto Perez! Abrams! Paul! Restate qui con il secondo plotone e difendete il fianco fino al nostro ritorno! Ricevuto! Affermativo Perez! Massima attenzione e occhio ai nemici alle finestre! Ok Repson! Andiamo! Ehi! Vedo movimenti! Lato destro! I nostri al teatro sono nella stessa nostra situazione! Appena spazziamo via i tedeschi, distruttano fuori altri! Siamo nel loro territorio! È tutta un'altra storia! Se togliono un massacro, è quello che avranno! Non hanno speranze contro di noi! Loro sono convinti del contrario! S. S. Ricarico! Colpo in cadda! S. 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 Valzio, scelta la davanti, in alto! Pronto a far fuoco! Colpo in canna! Pronto a far fuoco! Un lanciatore nemico ci attacca dall'avanti! AXER SHREK! IPR YARTI! BATTERIA ELIMINATO! DAGWOOD WHITE 2-7 ANVILLEIN! DOVE SIATE FINITI?! ARRIVIAMO! INCONTRIAMO RESISTENZA SUL VOTO FIANCO OVEST! ASSO! Svelti, Perez! ASSO e CHIUDO! REPSON! STANNO ATTACKANDO IL PRIMO PLOTONE! SIAMO QUASI ARRIVATI! VAI AVANTI! REPSON RALENTA! NON TI VEDO! Cattedrale in vista! Siamo quasi arrivati! PANZER! A DESTRA! A DESTRA! REPSON! INCENDIO! AI PORTELLONI! MERDA! NO! NO! MERDA! FUORI! FUORI! REPSON! NO! PERES! Il Panzer è inattaccabile brutalmente! ACCEPTIAMOLO! RECEPUTO! Faccio il giro! COLPO DIRETTO! OTTIMO! DOVE SONO? Non li vedo più! CARRO NEMICO DISTRUTTO! CARRO NEMICO DISTRUTTO! REPSON! RISPONDI! REPSON! MI RICEVI! MERDA! REPSON! PERDONAMI! FORZA! I NOSTRI CI ASPENTANO! ANDIAMOLO SU! CARRO! CARRO! CHECCA! CHECCA! C'è un altro puzzle anche qui! Fianco colpito in pieno! Ci sono colpiti! Non li vedo! Tiger, a destra! Centrato! Distrutto! Risaliamo all'altura da dove è arrivato il Tiger! Il teatro deve essere oltre la salita! Dagwood White 2-7 a Villain! Non resisteremo ancora molto! Villain a Dagwood White 2-7! Ramson a terra! Siamo rimasti solo noi! Stiamo arrivando! Il teatro è appena dietro l'angolo! Distruggete quei pacchi che colpiscono il teatro! Ecco il teatro! La squadra di Turner è nella merda! Mezzo al corazzato tedesco! Distruggiamo subito quel Panzer! Vi dà l'angelo! Ricarico! Carro nemico distrutto! Così non resisteremo a lungo! Veicoli nemici in arrivo! Distruggeteli! Batterie Panzer Shrek! Affordamenti davanti! Vanno scappando! Addosso! Manca poco! Dobbiamo eliminarli tutti! Ricarico! Lanciato dei nemici davanti a noi! Un Panzer Shrek ci colpisce da non avanti! Qualcuno vede altri bersagli? Negativo! Credo che chi abbia potuto di niente! Tutti sistemati! Villen a Dagwood White 2-7! Piazza libera! Ripeto! Piazza libera! Grazie per l'aiuto, signore! Dagwood White, chiudo! Ok! Perez resterà in posizione al teatro per coprirci il fianco! Noi dobbiamo avanzare verso l'hotel Allendorf senza supporto corazzato! Andiamo! Bene, facciamolo! L'albergo è in mano ai nazisti da settimane! Preso quello, anche la città sarà nostra! Con qualche carro armato sarebbe tutto più semplice! Perez deve difendere la posizione! Dovremmo farcela da soli, soldato! Attenti in alto! Occhio alle finestre! Attenti a quei negozi! Non mi piace, troppo tranquillo! Stiamo all'alta! Calma, state al riparo! Vitragliatrice, via! Avanziamo e troviamo un barco! Negozio destro, centro! Dakar, testato colpito! Avanti! Ci sono! Portati via da qui! Avanti! Tieni duro! Prendi delle munizioni, Daniels! Imboscata, a riparo! Imboscata, a riparo! Daniels, ho un kit medico per te! Siamo prossimi! Uno, due, due! Strucchi! Via libera! Scordiamoci le scale! Di sicuro non possiamo tornare in strada! Questo muro sembra debole! Daniels, colpiscilo con il lanciatore! Vieni indietro! Vedo movimenti! Truppe nemiche! Fuoco! No! Puoi avversi! Sempre avanti! Sembra tutto tranquillo. E la cosa non mi piace. Daniels, cosa vedi? I cieli sono sgombri. I nostri hanno finito di bombardare. Ti godi il panorama, soldato! Cosa stai guardando? Contatto visivo con l'albergo. Non vedo truppe sul balcone. Né altrove, se per questo. Devono essere dentro a rinforzare le difese. Vogliono giocarsi il tutto per tutto. Allora riusciremo ad avvicinarci senza troppi problemi. Appena attaccato l'albergo, dovremo prepararci al peggio. Primo, copiamo l'appartamento. Forse i cruchi sono là dentro. Dopo averlo ripulito, avanziamo verso l'albergo. Informazione! Daniels, Jusman, davanti! Andiamo! Occhi aperti! In quegli appartamenti potremmo trovare parecchie missioni per te, soldato. Signore, mi dia dei colpi! Qui, soldato! Via libera! Avanzare! Occhi aperti! Daniels, serve di nuovo il lanciatore! Occhio all'esplosione! Non vedo niente! Ecco i tedeschi! Facciamoli fuori! Non si passa! Dobbiamo eliminare i cruchi! Non li vedo! State giù! Il tumo si tirata! Pronti a sparare! E arrivano altri! Giù! I raneti di destra! I raneti di destra! I raneti di destra! I raneti di destra! Il movimento! Come sono altri? A riparo! L'ho steso! Via libera! Raduniamoci qui! Rogers, va avanti e controlla la prossima stanza! Signor C! Puoi segnalare i bersagli per i portai! Volta bloccata! Dobbiamo infilarci dentro uno alla volta! Sembra molto stretto! Non so se ce la faccio! Ti dicevo di metterti a dieta! Ah! Molto simpatico! Daniels! Tocca a te! Qui! Merda! Merda! Mi serve aiuto! Tutto bene? Grazie! Lo scopero! I cruchi sono dappertutto! Lo scopero! Eccoli arrivare da aeree! Sinistra! Avanzano da non sove! A un fucile che arricchisce! 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 se servono. Va bene. Daniels, devi aiutarci. Porca puttana! È come in buono stato. È carburante. La batteria funziona. Può darci un passaggio. Tenete, forse riesco a vettarlo in moto. Chi l'avrebbe mai fatto? Ok, andiamo! Pronti, ragazzi. Daniels, un altro muro. Abbattilo. Avanti! Muoversi! Dobbiamo occupare l'atrio. Si uspanna a destra. Aiello a sinistra con me. Stiles al secondo piano con Pearson. Ricevuto! Dovido! Ti vedo alla scala principale! I tragnatrici sulle piane! Provate a circonderli! Si stanno muovendo. Il movimento li ha percorato il piano! Si avvicinano da sotto! Nemici in arrivo da sud-ovest! Stanno uscendo! Eccoli! Ritz! Daniels, andiamo a corridoio sul retro! Andiamo a ricaricare! Daniels, andiamo a corridoio sul retro! Daniels, andiamo a corridoio sul retro! Spero che siano tutti. Spero che siano tutti. Il secondo plotone ha i piani alti. A noi tocca lo scantinato. Con me! Ranghi serrati! Daniels, ho granate e fumogeni che aspettano te! Ehi, Stiles! Ho trovato un nascondiglio per te! Ma il culo! Basta! Daniels, la porta! Luci! Sembra una bambina! Qualcuno ha del cioccolato? Signor sì! Avrai fame! Dai! Prendi! Nonna! Wow, 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 wow! Tranquille, tranquille! Niente paura! Niente paura! No mangiare! Mia sorella, aiuto, per favore! No, no, i rinforzi nemici saranno qui a momenti. Non possiamo fare da balia a dei civili. Sono soltanto in due. Signore, venga qui a vedere. Ah, davvero grandioso. Merda! Quel camion che abbiamo trovato prima. Lo portiamo qui e facciamo evacuare. Con tutto il rispetto. La nostra priorità è l'albergo. Non parlo tedesco! 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 Quando cazzo pensavi di dircelo? Mai! Porteremo in salvo questa gente! Daniels, Aiello, tornate a prendere quel camion, ci vediamo al lato ovest dell'albergo. Muoversi! Chissà cos'altro ci tieni nascosto, Herr Zussmann. Non si preoccupi, sergente. Ah, invece mi preoccupo, soldato. E come? Adesso tocca a noi due, Daniels. Zussmann poteva dirlo che sa parlare tedesco. Viene da una famiglia di ebrei tedeschi. Non vuole che si sappia delle sue origini. Tutti abbiamo qualcosa di cui non siamo pieni. Perchè dobbiamo sbarcarci così per quei conti? C'era una bambina e degli anziani. Non possiamo salvare noi. Sono civili. Li porteremo in salvo, è nostro dovere. Ecco il camion, andiamo. Ok, dammi un attimo per accendere questo affare. Bene, ti copro le spalle. Movimento in quegli edifici dall'altra parte. Lancia una granata. Granata fumogena. Mettilo in moto. Non ho mai guidato un camion tedesco. Assecco, ricarico. Avvicino, amicino, arrivo. Al riparo. Al riparo, che inferno. Non possiamo. Frigati. Ancora finito. Tedesco, passi di risplaciantone. Ancora finito. Forza, andiamo, forza! Signore, dobbiamo andare. Arrivano rinforzi. Anna! Ehi, dove stai andando? Mene schwesta, io devo rinforzare! Cosa ha detto? Sua sorella è tornata nello scantinato. Allora ci resterà. Dobbiamo portare via questa gente. Andiamo! Tenente, vado io. Te lo puoi scordare. Hai due minuti. Vengo anch'io. No, solo Daniels. È troppo pericoloso. Mi serve qui a proteggere il perimetro. Signor sì. Devi fare in fretta. Ricevuto. Merda! Scheiße! Letta! Oh, cazzo. Devo trovare Anna. Anna! Deve essere qui da qualche parte. Anna! Ehi, piccola. Andiamo. Ti riporto da tua sorella. Io ho trovato Caspar. Vieni. Ssshh. Va tutto bene. Non preoccuparti. Vieni. 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 Ssshh. Va tutto bene. Es ist ok Caspar, es ist ok Was soll das? De botti da raufkommel Nein, Caspar Was soll das? De botti da raufkommel Caspar Gossmann, Müller, wir werden angegriffen Rauf, sofort Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss Geh hoch und sag kurz, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen Schnell Bewegung Verstanden Was ist denn das? Wir werden angegriffen Jawohl Was ist denn das? Sei bravissima Siamo quasi arrivati Geh hoch und sag Debi farti coraggio ancora per un po' Wo ist dein Haus? Si sistemerà tutto Si può sapere da dove spucano Devo ricaricare Dobbiamo andare avanti Sono qui con te Tranquillo Di qua sparano Troppo rischioso Andrò tutto bene Lì non si passa Merda E' uno dei nastri Daniels Dobbiamo andarcene Portala al camion Vi copriamo noi Sì Diamo una bella pulita Daniels Daniels Vieni subito qui Abbiamo preso l'atrio Anna Grazie Ok ora possono arrangiarsi Andiamo Li porteremo in salvo Questo è quanto Pearson ha ragione Se ci riportiamo dietro I cruchi ci attaccheranno E' troppo rischioso Lo stato Ziusman Liberiamo questa strada E li portiamo al sicuro Chiaro signore Però forse sarebbero più al sicuro da soli E se i tedeschi si riprendono l'albergo Ogni squadra che passerà di qua Sarà in pericolo Non siamo a Kasserin Siamo in vantaggio Voglio tutti sul camion Agli ordini Posizioni difensive Liberiamo la strada Sponto una granata Se arrivano altri Difendere la posizione Usa una granata Via libera Tutto tranquillo Giardino al sicuro Strada libera Ci siamo tutti? Nessuna perdita E' morta Andiamo Via Che cazzo fai? Eseguo gli ordini Ripiegare all'albergo Via 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 Ehi Non c'è più niente da fare No c'è più niente da fare No c'è più niente da fare Via 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 Grazie a tutti.